Ok, buonasera a tutti e a tutte, siamo qui per la seconda serata di questa settimana dedicata alle questioni di genere, io lì abbiamo parlato di razza, genere e sessualità e fra i relatori c'era anche Giuseppe Burgio che è qui con noi anche stasera Giuseppe è un pedagogista, è un esperto di intercultura, è ricercatore all'università di Enna Core ed è vice direttore del CIRC, centro interuniversitario di ricerca queer è autore dei libri Adolescenza e Violenza che poi è il libro che andiamo a presentare stasera anche se sarà anche una conversazione speriamo con voi e mezzi maschi e oltre alla nazione che è un libro appunto dedicato alla vicenda dei Tamila ed è un libro fondamentalmente di intercultura, ecco vorrei iniziare a parlare con Giuseppe, innanzitutto ringrazio Giuseppe per essere qui grazie a voi per avermi invitato volevo iniziare subito a parlare innanzitutto partendo dal titolo che è la costruzione della maschilità, formazione, genere e violenza e una delle domande che mi sono state fatte più volte in questi giorni è stata perché parliamo di costruzione della maschilità perché per esempio maschilità e non mascolinità cosa... va bene? lo so, innanzitutto buonasera a tutti e a tutte grazie di essere intervenuti quando si parla di genere generalmente, scusate il bisticcio in realtà si parla di donne e tutti gli studi sul tema riguardano la condizione femminile come se il genere fosse un modo nuovo per dire condizione femminile in realtà quando noi parliamo di genere parliamo della differenza tra uomini e donne e quindi il genere è un taglio che riguarda tanto gli uomini quanto le donne se esistono tantissimi studi sulle donne esistono pochissimi studi sulla maschilità che è una cosa che nasce da poco il... perché questo? perché l'invisibilità maschile ha, negli studi di genere ha fatto pensare al fatto di essere maschi come un dato naturale in realtà il parlare di maschilità e non di masculinità o di virilità serve a segnare la differenza così come donne non si nasce ma si diventa alla stessa maniera uomini non si nasce ma si diventa cioè il fatto stesso di nascere io sono un uomo e sono nato con un corpo con un'anatomia maschile ma questo descrive una parte della realtà c'è un'altra parte che per diventare un uomo non basta avere un corpo maschile ma bisogna fare una serie di altre cose per essere riconosciuto come uomo dagli altri uomini e dalle donne e allora la maschilità è il termine più base più onnicomprensivo che è legato alla condizione dell'essere maschio nella società che è diverso dalla virilità che invece è un modello a cui tutti noi uomini siamo tenuti a cercare di incarnare noi tutti abbiamo un compito di sviluppo che è quello di essere riconosciuti come dei veri uomini il vero significa un dover essere un modo preciso di dover essere uomo e allora diciamo che tutti noi abbiamo una condizione anatomica data alla nascita al fatto di essere nati uomini ma abbiamo poi un dobbiamo diventare ciò che siamo cioè dobbiamo adeguarci a un ruolo a un modello a un'identità maschile che è socialmente riconosciuta questo avviene in tutte le culture ovviamente tanto che esistono i riti di passaggio dall'infanzia all'adultità maschile esistono e questo funziona anche per le donne ma il taglio che vorrei dare io a questa discussione è legato esclusivamente alla differenza maschile perché vorrei parlare a partire da me come si fa a diventare un vero uomo? innanzitutto a un bambino che piange tutti noi, i genitori, la società in generale dice più o meno non piangere non sei una femminuccia comportati da uomo cioè c'è un modo corretto di comportarsi per essere riconosciuti come uomini tutti noi facciamo questi sforzi il lavoro che ho cercato di fare in questo libro è di analizzare come si costruisce un uomo cioè come nella nostra società noi prendiamo un essere umano non ne facciamo un uomo socialmente riconosciuto tutti noi uomini abbiamo affrontato questi passaggi ma non ne siamo consapevoli li diamo per scontati invece in un'ottica di genere questi passaggi sono passaggi di costruzione della maschilità io lavoro con studio soprattutto gli adolescenti l'adolescenza è la fucina il laboratorio principe di questa trasformazione perché la costruzione della maschilità comincia dalla nascita appena nasce un bambino la prima cosa che viene detta ai genitori non è se è sano o è malato ma se è maschio o femmina e da quel momento comincia una costruzione del genere perché viene messo un fiocchetto celeste o un fiocchetto rosa e viene costruito attraverso l'abbigliamento i giocattoli che vengono dati a questi bambini i giocattoli sono differenziati l'abbigliamento i colori che si usano sono differenziati hanno fatto degli studi sui padri di gemelli uno maschio e uno femmina i bambini sono delle specie di tubi fanno due o tre cose piangono, mangiano e basta ma il padre nel bambino maschio e nella femmina della stessa età perché gemelli riconosceva nel maschio una maggiore vivacità i bambini facevano esattamente la stessa cosa ma era l'occhio del padre che sapeva che il maschio è vivace mentre la femminuccia è più tranquilla e vedeva era l'occhio del padre che vedeva quello che accadeva nella crescita dei maschi e delle femmine noi li educhiamo in maniera differenziata sono frasi, cioè un vecchio ma ancora utile libro che è dalla parte delle bambine di Giannini Belotti che mostra come l'educazione nella scuola dell'infanzia ma anche in casa dei genitori sia differenziata come noi ai bambini regaliamo alcuni giocattoli alle bambine altre e soprattutto tolleriamo alcuni comportamenti per esempio diamo per scontato che i bambini maschi siano disordinati che siano più vivaci e tolleriamo la loro vivacità mentre alle bambine si dice non correre che sudi o ti sciupi il vestitino mentre si dà per scontato che i bambini si sudino e che mettano disordine spesso nelle scuole dell'infanzia ancora oggi, nel 2016 le educatrici e le maestre chiedono alle bambine di sistemare i giocattoli dei bambini io ho vissuto con una madre femminista che mi ha educato a una cosa banalissima cioè togliere il piatto quando finivo di mangiare e sparecchiare questa cosa la facevamo io e mia sorella mia nonna questa cosa si stupiva e chiedeva a mia sorella di prendere il mio piatto mia sorella ovviamente diceva se lo prende lui perché doveva fare una cosa del genere allora era mia nonna che si alzava e preferiva lei togliermi il piatto piuttosto che farlo fare a me le mie studentesse all'università di medicina quando la facoltà di medicina quando io faccio questa domanda io chiedo ma a casa collaborate alla stessa maniera voi e i vostri fratelli succede ancora oggi una rivoluzione cioè le ragazze si lamentano del fatto che c'è un'educazione differenziata rispetto alla collaborazione nei lavori domestici rispetto all'orario di rientro a casa la sera quindi l'educazione anche oggi nel 2016 è differenziata ma questo modello di educazione differenzia per esempio sul modo di sedersi sul modo di accavallare le gambe gli uomini accavallano le gambe così le donne accavallano le gambe così ma oltre a un'educazione genitoriale e sociale c'è una fortissima controllo reciproco tra i pari nelle scuole medie capita che i ragazzi maschi si controllino tra di loro per esempio un gioco che fanno ancora oggi il 2016 gli studenti della scuola media e chiede al compagno e chiede al compagnetto guardati le unghie delle mani perché anche questo è differenziato questo è un modo femminile di guardarsi le unghie questo è un modo maschile a seconda di come i ragazzini si guardano le unghie possono rovinare una reputazione perché se un ragazzino guarda le proprie unghie così viene preso in giro perché è un modo effeminato i ragazzini si controllano costantemente sul modo in cui giocano a calcio sul modo in cui si rapportano alle ragazze c'è poco di naturale in questo sicuramente avrete notato un atteggiamento tipico dei ragazzi maschi che è quello di grattarsi continuamente genitali in pubblico lo avete notato tutti durante l'adolescenza c'è un problema ormonale probabilmente anche una questione di igiene e quindi di provito e si grattano ma questo è impensabile per una ragazza una ragazza non farebbe mai una cosa del genere ma perché il grattarsi genitali in pubblico è una pratica citazionale io cito il fallo io ce l'ho, lo tocco, mi rassicuro c'è ancora, non è scomparso così come io disegno falli nei gabinetti dei maschi se voi andate nei gabinetti maschili nelle scuole medie del 2016 in un paese civile come l'Italia c'è pieno di falli disegnati se voi andate nel bagno delle ragazze non trovate vagine disegnate e allora i ragazzi hanno bisogno di rappresentarsi come maschi una cosa che fanno continuamente per esempio ancora oggi è quello di darsi dei colpi sui genitali proprio perché, come scherzo Goliard dicono che è una cosa estremamente dolorosa anche per un uomo ma il gioco è i genitali sono duri sono resistenti gli puoi dare colpi pensare a una ragazza che dà un colpo sulla vulva alla compagna è impensabile ora, questa differenziata educazione che avviene tra gli adulti e i giovani funziona anche, ripeto, tra i pari uno degli agoni costitutivi della maschilità è l'eterosessualità gli adolescenti oggi specialmente quando stanno in gruppo quando vedono passare un essere umano femminile di qualunque età, di qualunque aspetto fisico immediatamente si sentono in dovere di dire minchia che buona io le farei questo, le farei quest'altro le farei quest'altro anche l'abordaggio durante la pre-adolescenza e l'adolescenza è una cosa estremamente rude l'abordaggio diretto scientificamente non ha mai avuto successo gli adolescenti lo sanno ma il problema è che l'obiettivo non è la ragazza da conquistare l'obiettivo è il gruppo dei maschi di fronte ai quali fare una performance pubblica di maschilità gli adolescenti si propongono come soggetti desideranti desideranti H24 sette giorni su sette gli adolescenti parlano di sesso continuamente e si propongono come soggetti eternamente desideranti ora parlo io che sono in andropausa dico ma non è questo il problema il problema è che anche un adolescente non è H24 in foiato ma ha bisogno di rappresentarsi in questa maniera perché è una performance di virilità e allora il mostrarsi in pubblico come maschi fa parte dei compiti di sviluppo della maschilità e finora siamo al livello della goliardia del divertimento il problema è che a cosa noi in questa società associamo la maschilità la prima cosa a cui pensiamo parlando di maschilità è l'aggressività e la violenza anche l'aggressività e la violenza è una performance pubblica di maschilità e allora il mettersi in gioco nella competizione e nel conflitto con gli altri maschi fa parte di questo processo anche il bullismo fa parte di questo processo cioè l'utilizzare l'aggressività e la violenza è un modo per mettersi in scena in quanto maschi è un modo per creare gerarchie all'interno del maschile è un modo per escludere le forme dequalificate di maschile proprio perché nel discorso che cerco di fare il maschile non è un dato di fatto ma è una costruzione sociale e come ogni costruzione sociale ha una gerarchia esistono maschi alf maschi beta e via di seguito esistono anche i maschi omega e allora il confronto intramaschile il braccio di ferro che spesso si crea all'interno della maschilità è una cosa utile a creare a darsi valore le donne hanno un evento mensile le ragazze che ricorda che sono donne e soprattutto nessuno mette mai in dubbio il fatto che una donna è una donna nemmeno di una lesbica si mette in dubbio il fatto che sia una donna mentre gli adolescenti i maschi in generale gli uomini in generale i maschi in generale ma soprattutto nell'adolescenza continuamente mettono in dubbio la maschilità dell'altro comportati da uomo non sei maschio gli adolescenti giocano continuamente su questo modello su questo braccio di ferro l'insulto statisticamente più usato nelle scuole italiane è frocio che viene usato una media di 7 volte al giorno frocio non è un insulto che viene usato contro gli omosessuali è un insulto generico il mio compagno sbaglia il rigore a calcetto pezzo di frocio è un modo per creare gerarchie così come funziona per il bullismo che attacca categorie che sono già marginalizzate nella società il bullismo non è un un atteggiamento indifferenziato ma è un atteggiamento violento che colpisce gruppi marginali colpisce le persone in sovrappeso colpisce le persone in situazioni di handicap colpisce le persone omosessuali o ritenute tali colpisce gli immigrati cioè è una struttura normativa norma all'interno della scuola riproduce all'interno della scuola le discriminazioni che esistono già all'interno della società grazie il problema con te è sempre che sei molto esaustivo e molto chiaro quindi fatti le domande è molto complicato però in realtà avevo innanzitutto volevo chiederti se volevi dirci qualcosa di più sulle tappe di questa costruzione della maschilità o questa è la prima domanda se vuoi già rispondere alcune cose le ho già dette riguardo all'infanzia al modo in cui i genitori si trattano i bambini ci sono dati inquietanti cioè i bambini maschi e femmine a partire dai 18 mesi di età piccolissimi cominciano a sviluppare sentimenti di empatia verso gli altri verso chi soffre verso le altre persone alla stessa maniera fino ai 36 mesi già a cominciare dai 36 mesi che è l'età in cui comincia la microsocialità con gli altri bambini i percorsi si differenziano le bambine mantengono gli stessi livelli di empatia i bambini riducono la loro empatia un altro snodo un'altra differenziazione grossa avviene nella preadolescenza perché per tutta l'infanzia i bambini e le bambine vengono educati alla stessa maniera all'interno della famiglia soprattutto alla madre il padre è una figura educativa assente fino alla preadolescenza alla preadolescenza quando comincia lo sviluppo anche sessuale e anche i bambini raggiungono una maturità intellettuale per cui possono dialogare col padre non frignano continuamente si può vedere una partita di calcio insieme i padri intervengono dal punto di vista educativo però propongono un modello educativo di tipo diverso perché mentre generalmente le madri educano a un modello empatico cioè se il bambino torna a casa piangendo la madre lo consola con la preadolescenza comincia un ragionamento maschile nell'educazione dei maschi per cui il ragazzino che torna a casa piangendo perché le ha presa dai compagni durante la preadolescenza il padre comincia a dire non portare le legnate a casa devi difenderti devi reagire devi dare a tua volta le legnate cioè noi abbiamo le ragazzine che vengono educate per tutta la preadolescenza e l'adolescenza allo stesso modello materno mentre i maschi subiscono uno swiss un cambiamento un passaggio da un modello empatico a un modello di tipo più competitivo che è legato appunto ai compiti che si ritiene che i maschi debbano a cui debbano fare fronte ma il grosso dell'educazione avviene dicevo tra pari ho fatto una ricerca sugli insulti più usati dagli adolescenti e ne emerge un modello piuttosto inquietante perché esistono un piccolo un gruppo di insulti che usano soprattutto i bambini che hanno a che fare con le feci stronzo pezzo di merda io ho un sacco di parolacce perché devo dirvele mi perdonerete e queste sono quelle più semplici poi ci sono un gruppo di insulti che fanno riferimento a parti del corpo considerate vergognose tipo culo i bambini dicono culo e si divertono un sacco quando diventano più grandi cominciano a dire coglione testa di cazzo eccetera sono per lo più genitali maschili è sistemona ma è minoritario ma il grosso degli insulti usati dagli adolescenti hanno a che fare con l'essere straniero turco marocchino eccetera eccetera cioè con con l'essere non autoctono ancora di più crescono gli insulti riguardo alla non normalità psicofisica mongoloide handicappato malato ma legato anche semplicemente al fatto di portare gli occhiali e avere le orecchie a sventolo o l'essere grasso poi abbiamo il grosso gruppo di insulti che è legato alle donne se io devo insultare una donna dico che sostanzialmente fa sesso perché la sessualità è sbagliata per la donna la donna non dovrebbe fare fare sesso l'insulto statisticamente più usato per una donna è puttana troia cioè una che ha troppi fidanzati sostanzialmente non esiste il corrispettivo maschile io non posso dire pezzo di don giovanni gran casanova che sei perché appunto il non controllo della sessualità la promiscuità sessuale per un uomo ha un valore invece positivo il modo in cui io posso insultare un uomo è insultare le donne della famiglia quindi che è un cornuto o che è un figlio di puttana cioè è un po' come la vendetta trasversale della mafia cioè io non colpisco te colpisco i tuoi parenti in questo caso le donne della famiglia tua nonna tua bisnonna eccetera eccetera esiste un modo specifico per insultare un uomo riguardo alla sessualità che non è appunto il fare sesso ma l'uso scorretto della sessualità per un uomo è l'omosessualità e in particolare l'omosessualità ricettiva proprio perché la ricettività sessuale la passività sessuale associa il maschile al femminile da questa veloce carrellata emerge un'ideologia angosciante qual è l'unico modo per non essere insultabile un adolescente per non essere insultabile deve essere maschio normale dal punto di vista psicofisico bianco italiano eterosessuale e soprattutto con una sessualità intrusiva eiaculativa e non ricettiva i ragazzi citano continuamente questi insulti cioè ricordano costantemente a se stessi e agli altri le regole del gioco cioè quello che emerge è un'ideologia sessista misogina omofobica razzista e questo è il modello a cui gli adolescenti si educano si auto educano qual è il risultato di questa costante auto educazione che gli adolescenti sono persone fragili l'adolescenza è un periodo di crisi è un periodo di costruzione è il periodo delle paure delle insicurezze è il periodo della gruppalità essere isolati in adolescenza è un fatto estremamente grave gli adolescenti hanno bisogno di inserirsi nel gruppo di fare parte di una socialità e lo fanno adeguandosi alle regole e spesso sono più realisti del re cioè gli adulti spesso riescono a giocare con le regole gli adolescenti no gli adolescenti assorbano le regole e le impongono e le trasmettono come regole del gioco e allora la conseguenza di questo schema che ho disegnato è innanzitutto la violenza verbale e fisica che c'è in adolescenza il bullismo il bullismo omofobico ma tutti i tipi di bullismo ma c'è anche un controllo di sé che è neurotico che è snervante quando io lavoro con gli adolescenti e faccio il gioco dei biglietti anonimi in cui loro possono fare domande che mai farebbero indirettamente le domande che emergono da questa maschilità sono angoscianti una prima domanda è come faccio a essere sicuro di non essere omosessuale e se una mattina mi sveglio e mi scopro gay come faccio perché essere gay non è comodo in questa società lo uso come insulto non mi piace un'altra angoscia è legata al primo rapporto sessuale alla rottura e al frenolo che pensano legato al simmetrico alla rottura dell'imene e quindi lo vivono con dolore pensano al primo rapporto sessuale come una cosa potenzialmente dolorosa le angosce di questi adolescenti sono tante e allora bisogna accompagnare questi adolescenti lo sforzo che ho fatto in questo libro è cercare di cambiare l'ottica noi in genere pensiamo ai maschi specialmente agli adolescenti maschi come soggetti problematici e questo abbiamo degli esempi la sua grande maggioranza delle note disciplinari nelle scuole vengono fatti a maschi la sua grande maggioranza degli studenti segnalati ai servizi sociali sono maschi la sua grande maggioranza delle persone che hanno problemi con la giustizia in adolescenza sono maschi cioè i rapporti tra i crimini commessi dai maschi e dalle femmine in adolescenza non è paragonabile i maschi hanno una serie di comportamenti a rischio durante l'adolescenza tipo quello di correre con le macchine da grandi ma prima con le biciclette o con i motorini la sua grande maggioranza di quelli che hanno incidenti mortali sono maschi perché la velocità in auto è una performance di maschilità tutti noi abbiamo visto tutti noi quando ero giovane io esistevano le riviste di motori di macchine in cui c'erano queste macchine dove c'era sempre sopra una signorina straiata generalmente discinta cioè il il legame tra donne e motori è un uno stereotipo il bisogno di mostrarsi coraggiosi assumendo comportamenti a rischio è una delle performance di maschilità finora tutti abbiamo pensato ai maschi come il problema e lo sono lo sono anche realmente perché creano problemi agli altri ma la mia ipotesi è che i maschi creino problemi perché hanno un problema cioè che oggi in questa società costruirsi come maschi sia più difficile che nell'epoca passata perché prima esisteva un patriarcato con regole chiare e un destino già scritto oggi col protagonismo delle donne abbiamo una acquisizione di maggiore libertà delle donne finalmente Deo gracias ma ci troviamo con un problema di simbolico maschile in crisi essendo in crisi il patriarcato questi adolescenti maschi a quale modello devono rivolgersi la trasmissione intergenerazionale di modelli di maschilità è persa i nostri padri e i nostri nonni di oggi non hanno più un modello da trasmettere agli adolescenti di oggi perché la società è cambiata gli adolescenti devono fare la fatica di costruirsi un modello di maschilità privi di qualunque punto di riferimento e mentre non è per nulla facile crescere come donna non è per nulla facile crescere come ragazza ma esistono dei punti di riferimento che si sono moltiplicati i modelli sono accresciuti io so che come ragazza posso da grande essere una casalinga come mia nonna e fare i dieci figli oppure posso fare la stilista lesbica a Milano sto banalizzando dicendo la pluralità dei modelli a cui le adolescenti possono guardare per i maschi paradossalmente il modello è uno solo è sempre il modello dell'eroe virile ciò che noi associamo alla virilità è un modello sostanzialmente arcaico in crisi ma con cui non abbiamo sostituito altri modelli e allora lo sforzo come adulti come genitori come educatori dovremmo fare secondo me è quello di riconoscere la complessità del diventare adulti come maschi appunto che maschi non si nasce ma si diventa e cercare di accompagnare questi maschi attraverso un'educazione alle maschilità cioè che l'unico modo di diventare maschi adulti non è diventare superman ma che esistono molti modelli di maschilità che maschio si può dire in molti modi che maschio è anche un uomo su una sedia a rotelle che maschio è un uomo anziano che maschio è un omosessuale che maschio era anche il Matt McGandhi che certo non è un modello di virilità secondo i nostri schemi ma fa parte della compagine della maschilità bisogna accompagnare questi adolescenti spiegando loro che sono molti i modelli a cui possono guardare e ciascuno di loro sceglierà il suo personale modello e che non c'è un dover essere non devono diventare tutti dei supereroi ma possono scegliere loro differenti modalità di maschilità dico questo perché oggi dal punto di vista epidemiologico esistono delle malattie specificamente maschili e sono sostanzialmente due una è l'asma e l'altra è la balbuzie Omero nell'Iliade quando parlava dell'arete cioè della virtù dell'eroe del soldato del guerriero greco dava queste due virtù la capacità di fare la guerra e la capacità di parlare in pubblico queste due malattie che colpiscono soprattutto i maschi soprattutto gli adolescenti maschi è molto minore le femmine colpiscono esattamente le stesse cose perché l'asma impedisce di fare i giochi di squadra e noi sappiamo che il calcio è una performance di maschilità un bambino con l'asma non può giocare a calcio un bambino che balbetta non parla in pubblico cioè i due luoghi simbolici che già Omero riconosceva come agoni della maschilità vengono impediti da queste malattie il fatto che dal punto di vista epidemiologico colpiscono i maschi più che le femmine secondo me non è un caso e allora dobbiamo pensare anche al fatto che come società è un bene che il patriarcato sia in crisi ma dobbiamo dare anche delle vie di fuga perché se no quello che possiamo aspettarci sono colpi di coda cioè il fatto che i nostri adolescenti si aggrappino all'unico modello che hanno e assumano un modello di maschilità come dominio un modello di maschilità come violenza e quello che è successo di recente sulla ragazzina stuprata dal branco di coetanei ne è secondo me un esempio inquietante ed emblematico grazie io vorrei farti un'ultima domanda perché magari poi se ci sono delle domande dal pubblico vorrei dargli spazio mi sembra che dalla dalla discussione del tuo libro sia emerso in maniera molto chiara come i diversi sistemi di oppressione siano solidali sul discorso che facevi sugli insulti che vengono utilizzati contro l'altro e questo è un punto secondo me molto importante ed è anche uno dei motivi per i quali abbiamo cercato di portare portati questa sera qui a parlare di questa cosa perché nel momento in cui vogliamo combattere contro ad esempio il razzismo è importante sempre tenere presente che ci sono delle performance di maschilità che in qualche modo sono solidali con le forme di oppressione che noi cerchiamo di combattere quindi questo secondo me è un punto molto importante che dobbiamo tenere presente una cosa sulla quale volevo chiederti so che ne hai parlato molto ma volevo chiederti un ulteriore di approfondimento perché l'argomento che tu porti sulla crisi della maschilità è sicuramente un argomento molto importante ed è per come tu l'hai descritto molto convincente d'altro canto è un argomento che viene spesso utilizzato per descrivere appunto un soggetto maschile che in quanto in crisi in qualche modo inevitabilmente arriva alla violenza questa è la narrativa che noi è la retorica che noi leggiamo quando si parla di femminicidio eccetera e quindi rispetto a questa cosa che secondo me ripeto è messa molto chiaramente però ti chiederei quasi di fare un piccolo passo indietro su il rapporto non vorrei tirare sempre in mezzo la femminilità però mi sento in qualche modo obbligata a farlo in questo contesto perché questa costruzione della maschilità che tu descrivi da una parte certamente mi pare come dire l'oggetto di una violenza questa costruzione della maschilità è una costruzione della maschilità che in qualche modo opera attraverso la violenza sui soggetti maschi sui giovani soggetti maschi sui maschi adolescenti dall'altro però come dicevi tu è anche una crea un soggetto che in qualche modo è violento non sempre non stiamo parlando di biologia gli uomini non sono più violenti delle donne per natura ovviamente senza essenzializzare però secondo me un nodo interessante che è emerso da quello che dicevi tu è questo rapporto con la donna con la femmina con la ragazza con la ragazzina cioè questo da una parte il fatto che la ragazza deve essere in qualche modo oggetto di desiderio ed è oggetto di desiderio se non altro in quanto è penetrabile in un certo senso dall'altra però c'è un continuo distanziamento perché io penetro e non devo essere penetrato per essere maschio e un disprezzo quindi c'è questa situazione paradossale per cui c'è un oggetto di desiderio che allo stesso tempo tu disprezzi no? non so se questa cosa può può avere un senso ecco a partire dagli adolescenti quando lavoro dirò altre parolacce lavorando con gli adolescenti nelle scuole siciliane mi è capitato una volta che c'erano questi ragazzini un ragazzino dice all'altro suca suca qua direte socce succhia non so come si dice qui ok oppure il ragazzino diceva al compagno se non la smetti te la metto in culo io ho fatto finta di essere appena atterrato da Marte e ho chiesto ma come mai tu fai proposte omosessuali al compagno perché proporre un rapporto orogenitale a un compagno se sono maschio proporre un rapporto anale a un compagno io sto proponendo un rapporto omosessuale il ragazzino mi ha guardato tipo povero scemo e mi ha spiegato una cosa che io già sapevo in realtà ma mi faceva piacere che lo dicesse lui cioè che in realtà non era un rapporto omosessuale perché però c'era soltanto l'altro che la prendeva mentre io che la davo non ero non ero omosessuale cioè c'è una concezione della sessualità nei ragazzini in cui il problema non è l'omosessualità cioè il fatto che due persone siano lo stesso sesso mentre fanno sesso ma il ruolo quello che si fa quindi il ruolo attivo intrusivo è comunque maschile su chiunque lo eserciti il sesso non è una fusione uno scambio ma è un atto di dominio direi quasi di qualcosa che qualcuno fa a qualcun altro il modo in cui si dice fare sesso tra gli adolescenti è il verbo fottere il verbo fottere è un verbo transitivo io fotto qualcuno e noi al verbo fottere associamo sempre cose negative ho fottuto i freni della macchina dovrò ricambiarli mi hanno fottuto il portafogli sull'autobus il professore mi ha fottuto agli esami il commerciante mi vuole fottere sul peso del prosciutto cioè noi associamo al fottere qualcosa che è di difficile gestione per cui il fottere qualcuno è il segno più l'essere fottuti è il segno meno chi è che viene fottuto? innanzitutto le donne nella rappresentazione adolescenziale anche parlare di passività sessuale sembra che una donna in un rapporto eterosessuale si limi le unghie sostanzialmente non è un'attività è una passività tu stai là un po' annoiata guardando l'orologio cioè questa è la passività non è una cosa che tu fai ma anche nel rapporto omosessuale c'è questa dicotomia questa bipolarità per cui il ruolo attivo va bene il ruolo passivo non va bene e allora la concezione che emerge è una concezione della maschilità legata al dominio alla sopraffazione tu sei maschio quanto più sottometti gli altri che siano donne o altri maschi secondo me è anche secondario perché l'importante è il ruolo di dominio mostrare che sei maschio e il maschio è attivo è agente è dominatore questa concezione è una concezione che tutti noi maschi abbiamo conosciamo sappiamo che significa magari non l'abbiamo mai nominata ma lo sappiamo che significa il problema è che non ce ne rendiamo conto e quando parliamo di dello stupratore quando parliamo di chi uccide la moglie quando parliamo di crimini efferati compiuti da uomini pensiamo all'eccezione alla mela marcia pensiamo al al mostro quello che vorrei dire invece è che è più corretto secondo me che noi uomini affermiamo il fatto che c'è un continuum cioè che tra me Giuseppe Burgio che sono l'uomo più buono del mondo è lo stupratore c'è un continuum c'è una differenza di gradazione ma io ho goduto dei suoi stessi privilegi io so che nel rapporto con le donne io so che non abbiamo lo stesso potere su questo pianeta io so che posso permettermi delle cose o dei privilegi che le donne non hanno io so che la sera se ceno con gli amici e alzo il gomito poi posso in macchina fare un giro e posso passare davanti alle prostitute e posso scegliere se caricarla in macchina questo non esiste la prostituzione ovviamente sia eterosessuale sia omosessuale è soltanto per maschi la prostituzione per donne per clienti donne è una bufala il gigolo è un mito sono pochissimi statisticamente la prostituzione è un monopolio maschile i clienti sono tutti maschi è legato a una concezione della sessualità che è maschile e allora questa assunzione di responsabilità porta non a demonizzare il mostro ma ad assumerci questa responsabilità non in senso di colpevolizzazione che non serve a nulla ma nel senso della trasformazione nel fatto che riconosce le privilegi di cui ho goduto e di cui godo ancora oggi fa sì che io posso cambiare la società io posso cambiare me posso cambiare il maschile posso cambiare le relazioni di me con gli altri maschi per esempio una cosa a cui voi avrete fatto caso è il contatto fisico che si crea tra uomini e gli uomini si abbracciano si danno pacche sulle spalle ma non si danno baci c'è un un non detto nella fisicità maschile due ragazze le ragazze a scuola spesso vanno in bagno insieme tenendosi per mano questo è impensabile per due maschi è impensabile ciò significa che noi costruiamo questi adolescenti e quindi futuri uomini pensando a modelli a modelli differenti in tutto questo devo ammettere in quanto uomo che l'omofobia è utile l'omofobia è centrale nella costruzione della maschilità e il bullismo omofobico è centrale è predominante all'interno del bullismo perché risponde a un bisogno a un compito di sviluppo dei maschi perché falliscono tutti i programmi di riduzione del bullismo perché si basano sull'educazione alle differenze come se questi adolescenti maschi avessero problemi con le differenze non hanno secondo me problemi con le differenze ma l'omofobia in adolescenza è fondamentale perché risponde ad almeno tre bisogni primo bisogno vi dicevo poco fa la domanda come faccio a essere sicuro di non essere omosessuale gli adolescenti spesso sperimentano col proprio corpo per esempio la masturbazione di gruppo davanti a un giornaletto pornografico ora di fronte al video pornografico è un'esperienza che può creare angoscia nei ragazzi ovviamente non è assolutamente predittivo di nulla ma l'adolescenza è il periodo della crisi è il periodo in cui ho dubbi su di me nei bigliettini anonimi quanto deve essere lungo un pene angoscia legittima degli adolescenti in questo periodo di crisi di angoscia piacerò mai avrò mai un rapporto sessuale gli adolescenti spesso hanno questi dubbi l'omofobia è utile perché ha una funzione ego difensiva se io insulto gli omosessuali questo mi tranquillizza mi dà il senso mi dà sicurezza a livello intrapsichico il secondo elemento utile dell'omofobia in adolescenza è legato alla reputazione se io insulto gli omosessuali nessuno potrà pensare che io lo sia e allora è utile perché mi evita il rischio di poter essere vittima del bullismo tipico degli adolescenti è per esempio questo parlare ossessivamente di omosessualità l'omosessualità è un argomento centrale nel tradito ce ne parlano in continuazione e una cosa che fanno continuamente è quello di scherzare sull'omosessualità degli altri oppure di fingere di essere omosessuali stella ciao bacetti tra maschi perché ha la stessa funzione del sorriso io mostro i denti ma non sto ringhiando sto dicendo l'opposto ha la stessa funzione dell'adolescenza fingere comportamenti femminati ha il significato opposto cioè sono talmente tranquillo talmente maschio che posso permettermi di schiaccheggiare in pubblico perché nessuno penserà mai che io possa essere gay allora ha questa funzione di reputazione la terza funzione dell'omofobia così come della misoginia in adolescenza rispondendo alla tua sollecitazione ha detta le regole del gioco la socialità adolescenziale è una microsocialità che ha le proprie regole l'insulto la battuta lo scherzo le barzellette hanno una funzione normativa spiegano quali sono le regole del gioco se tutto questo è vero purtroppo gli adolescenti hanno un bisogno di misoginia e di omofobia per costruirsi secondo un modello di virilità stereotipico fornire altri modelli può essere un modo per ridurre la misoginia e l'omofobia in adolescenza grazie mille adesso se volete abbiamo pochi direi al massimo una decina di minuti se c'è qualche domanda dal pubblico Giuseppe è felice di rispondere vedo una mano alzata c'è qualche domanda sì vuoi se vuoi venire prima lei ha parlato di come la figura del padre e della madre siano importanti soprattutto relazionate alle varie fasi della vita di un adolescente e anche di un bambino quindi appunto le varie differenze per la formazione appunto del carattere anche della maschilità appunto soprattutto parlando del soggetto maschile appunto quindi volevo chiederle quali potevano essere le conseguenze diciamo in situazione tipo appunto normale ipotetica di appunto adolescenti piuttosto che bambini che crescono per varie ragioni senza appunto la figura maschile piuttosto che la figura femminile che appunto effetti potrebbe avere questa questa mancanza ecco di una figura di un esempio grazie a te è un tema estremamente dibattuto esistono ricerche dal 1974 ricerche statunitensi quello che emerge è il dato poi dico la mia ipotesi di spiegazione il dato è che non sono rilevate differenze su vari item tra persone educate da un uomo e una donna o persone educate da due donne che sono la sua grande maggioranza e pochissimi statisticamente quelli che sono educati da due uomini non è sì questo è il dato il la motivazione è quella che a me interessa di più cioè che a educare un bambino non sono i genitori a educare un bambino è una società intera perché il bambino non vive chiuso nello scabuzzino con un padre e una madre o con due madri ma vive fin dalle primissime 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 tempi in una relazione sociale nella relazione con gli altri bambini con i mass media con la famiglia è un nucleo inserito nella società e assorbe i modelli della società in una società sessista i bambini vengono educati in maniera sessista in una società omofobica in modo omofobico così come esiste l'omofobia interiorizzata dagli adulti gay tutte le famiglie etero o omo o qualunque siano assorbono i modelli della società e allora i bambini vivono all'interno di questo di questo contesto è vero che i genitori hanno un ruolo fondamentale perché sono i modelli più più vicini però storicamente una famiglia con un padre e una madre è stata una rarità perché per centinaia di migliaia forse di anni gli uomini hanno fatto le guerre gli uomini stavano fuori a combattere moltissime famiglie durante i lunghi periodi di guerra i bambini venivano generati da un padre che non c'era e allevati in famiglie di donne questo non ha impedito che la società continuasse a riprodursi in maniera patriarcale la scuola è un ambiente fortemente femminilizzato cioè gli insegnanti sono molto più dei maschi ma non mi pare affatto un posto meno sessista degli altri proprio perché non dipende dal sesso dell'educatore ma dipende dalle dinamiche che si creano dinamiche che sono verticali tra adulti e minori orizzontali tra minori e soprattutto tra il nucleo che sia la scuola o la famiglia e il contesto più più vasto faccio l'esempio della scuola che è quello che conosco meglio dove si fanno continuamente progetti per le pari opportunità però se poi il professore fa la battuta sulla collega che è nervosa perché ha le mestruzioni questa semplice battuta distrugge il valore di un progetto se il bidello durante la ricreazione racconta la barzelletta sui gay tutti i progetti che noi possiamo fare vanno a ramengo perché hanno un ruolo di educazione non formale che non viene riconosciuta il personale Ata non viene riconosciuto ma funziona la televisione il fatto che in televisione ci sia una rappresentazione io ho fatto una una piccola parentesi ho fatto una ricerca sulla prostituzione nigeriana a Palermo e andavo sul campo cioè sulla strada e contrattavo il rapporto sessuale più economico caricavo la prostituta in macchina e poi dicevo che non avevo voglia di fare sesso e prendevo un'intervista l'esperienza di andare a prostitute è un'esperienza strana perché le prostitute sono per strada sono esposte prostituere è proprio mettere esporre sono sotto la luce sono sotto il lampione quasi nude e visibili io ero un maschio completamente vestito protetto dalla lamiera della macchina e in penombra perché la luce non mi vedeva questa sensazione che mi ha dato la simmetria di potere una cosa stranissima ho pensato mentre io ero in prostitute cioè ho pensato a una trasmissione televisiva in cui c'era un presentatore che era completamente vestito e che parlava e aveva accanto delle donne seminude che sorridevano cioè lo stesso immaginario a me ha fatto pensare questa cosa ora io sono cresciuto con trasmissioni televisive in cui c'erano le ragazze coccodele letterine ragazze seminude che erano soltanto belle che sorridevano mentre uomini perfettamente vestiti che parlavano questa è l'educazione di genere il arriva ai figli degli omosessuali così come ai figli degli eterosessuali così come arriva agli orfani e allora ai ragazzi che sono istituzionalizzati e via di seguito quindi il modello l'educazione è una cosa estremamente complessa noi tendiamo a pensare all'educazione intenzionale ma la stragrande maggioranza dell'educazione è non intenzionale è non formale è informale avviene attraverso i videogiochi avviene attraverso la pornografia gli adolescenti quando io ero giovane la pornografia era cartacea a pagamento tu devi andare in un'edicola e fare la figuraccia di chiedere la rivista porno ora la pornografia è gratuita e di massa cioè gli adolescenti l'educazione sessuale degli adolescenti non la fa nel genitore non si fa a scuola si fa attraverso l'accesso alla pornografia e allora che modelli di genere e di sessualità permiano attraverso la fruizione della pornografia gratuita e di massa questo diciamo è un dubbio molto grosso grazie mille siamo in chiusura se vuoi aggiungere qualcosa hai forse dalla regia cosa mi dicono due minuti puoi aggiungere qualcosa poi chiudo solamente per rilanciare il prossimo appuntamento di questa settimana però ti lascio per una domanda c'è spazio dopo che abbiamo chiuso ah ok ok abbiamo tempo c'è qualcun altro che vuole fare una domanda abbiamo ancora tempo possiamo farla no vabbè è molto semplice di là di tutte le riflessioni che poi si possono fare la situazione dello stupro del branco che poi questa entità il branco che prende un nome una forma come se non fossero dei singoli io quando leggo queste cose c'è una vittima me ne rendo conto ma a me fanno pena tanto quanto allora quello che mi chiedo io è le analisi ci siamo a me sembra che come educatori non siamo capaci di capire qual è l'antidoto di come fare ho capito che il problema non è solo nostro è più grosso però poi quando ci troviamo nelle situazioni concrete cosa possiamo fare questi ragazzi cosa diventeranno hanno 15-16 anni sono piccolissimi allora la questione è sono delle bestie da castrazione chimica come chiede Salvini o sono recuperabili o una terza via che non mi riesco a immaginare mi chiedo come come ci si può lavorare grazie vado sì ok il riduco all'ambito scolastico e riduco al bullismo a scuola io da cosa nasce questa 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 ricerca nasce da un percorso che è biografico e intellettuale insieme io ho fatto le scuole elementari fino alle scuole elementari alle suore e non so se qualcuno l'ha notato la mia remoscia e io non 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 parlavo il siciliano a un certo punto i miei genitori comprano casa fanno il mutuo non hanno più i soldi per mandarmi alla scuola privata e mi mandano alla scuola media del quartiere periferico dove dove hanno comprato casa a Borgo Nuovo in questa scuola noi avevamo ancora c'erano ancora le sezioni maschili e le sezioni femminili arrivo io in questa scuola con la mia remoscia e con con la mia assoluta mancanza di padronanza del del siciliano in prima media avevo avevo compagni che avevano 18 anni perché ai tempi si bocciava a strascico no fino a quando non impari le tabelline tu stai là e guarda se ti muovi arrivo io e i miei compagni mi studiano mi sembra un poco strano perché parlo in italiano sono troppo raffinato quegli anni io mi chiamo Burgio di cognome mi danno un nomignolo che era Asburgo perché appunto sembravo di famiglia reale rispetto rispetto a loro a un certo punto la professoressa commette un errore esiziale cioè parla di un ramo degli Asburgo gli Asburgo Lorena da quel momento io divengo Lorena tu curre da Giuseppe Burgio divento Lorena Asburgo e divengo vittima di una cosa che non aveva nome perché quando venivano i miei genitori a chiedere agli insegnanti le professoressa dicevano eh ma suo figlio non si integra grazie che non mi integravano mi menavano ogni giorno non era facile integrarsi però questa cosa non aveva un nome era un problema mio crescendo poi sono passato dal liceo tutta un'altra storia mi laureo e faccio l'insegnante io torno a scuola da insegnante e vedo esattamente le stesse dinamiche le stesse dinamiche di vittimizzazione e mi trovo assolutamente privo di strumenti perché gli insegnanti vengono presi e buttati in classe senza nessuna formazione specifica non c'è nessuna formazione degli insegnanti di qualunque ordine grado per la gestione delle relazioni nella scuola e allora mi trovo assolutamente impreparato perché non so gestire questa cosa quando poi divento ricercatore vedo il problema che ho vissuto da vittima e poi da insegnante impotente come ricercatore e allora mi pongo un problema cioè qual è la soluzione che viene data a questo fenomeno cioè come si trattano i maschi i maschi vengono trattati come dei delinquenti o come dei potenziali delinquenti sostanzialmente il la da quello che ho detto invece secondo me bisognerebbe cambiare ottica e pensare ai bulli non come a delle persone da punire è troppo facile punire ma non ha nessuna soluzione non ha nessuna utilità perché se io vengo punito perché ho picchiato il compagnetto se ho la nota lo aspetto all'uscita gliene do il doppio perché ho ancora più rabbia da sfogare e allora secondo me il problema è quello di porsi l'obiettivo di una educazione alle maschilità un'educazione a una maschilità che non ha bisogno di opprimere il femminile e le forme quelle che abbiamo visto attraverso gli insulti le persone in situazioni di handicap gli omosessuali eccetera come fare questo il sul il bullismo io faccio il pedagogista il bullismo è un tema su cui chiunque ha scritto tutti i pedagogisti scrivono di bullismo è un tema di moda però si descrive il fenomeno e si pongono delle soluzioni lo sforzo che ho fatto in questo libro invece di sostare sulla domanda cioè di chiedermi qual è il problema perché lo strumento è relativo al problema che individuiamo secondo me è fondamentale tranquillizzare questi maschi cioè questi adolescenti comunicare loro che non hanno bisogno dell'insulto della violenza per essere maschi come fare questo? secondo me ci sono tutta una serie di strumenti concreti per esempio il piano dell'offerta formativa nella scuola il piano il POF il piano dell'offerta formativa è la carta iniziale della scuola in cui si parla di antirazzismo ma non si parla quasi mai di antisessismo e di antiomofobia è fondamentale che ci sia questo nel documento della scuola perché è il documento che leggono le famiglie e allora io famiglia so che sto scrivendo mio figlio in una scuola che è contro la misoginia e contro l'omofobia perché spesso il lavoro fatto alla scuola viene rovinato in casa e allora è fondamentale creare un'alleanza con le famiglie condividere un progetto educativo spiegare che i discorsi che si fanno sulla misoginia non sono in un'ottica punitiva ma sono in un'ottica educativa è fondamentale poi l'ipotesi del contatto cioè spesso i più arrabbiati degli omofobi non hanno mai incontrato un gay in vita loro o una lesbica in vita loro e allora spesso hanno paure non realistiche creare momenti di contatto per esempio portando le associazioni LGBT nelle scuole e fare dialogare vis-à-vis tra pari adolescenti eterosessuali e adolescenti omosessuali smonta una serie di paure smonta una serie di pregiudizi è fondamentale un altro ambito è quello dei contenuti disciplinari i curricula scolastici noi abbiamo ancora contenuti in cui noi studiamo una letteratura italiana che è un canone di maschi bianchi eterosessuali di certo alto chi sono le donne nella letteratura italiana? Gasparastampa nessuno conosce e poi arriviamo oggi all'amorante quando noi studiamo filosofia a scuola quale canone studiamo? Diotima perché ce ne parla Socrate e oggi Anna Arendt in mezzo non c'è quasi niente la storia che noi insegniamo ai nostri adolescenti è una una sequela di guerre di soldati e di politici che creano paci trattati di pace scusate e allora il pensare a cambiare i canoni disciplinari il curricula educando alle differenze educando al fatto che la realtà è un po' più complessa di quella che si fa a scuola fondamentale però con questo concludo è l'esempio degli adulti noi adulti che siamo genitori o insegnanti non educhiamo mai con quello che diciamo ma educhiamo con quello che siamo la libertà degli adolescenti dipende dalla libertà degli adulti la cosa migliore che noi possiamo fare per cambiare gli adolescenti è cambiare noi stessi cambiare la nostra misoginia cambiare la nostra omofobia in questo è fondamentale il ruolo delle donne nella scuola che sono la maggioranza è fondamentale anche il ruolo degli insegnanti omosessuali che ci sono il 5% della popolazione omosessuale anche il 5% degli insegnanti ma non sono visibili ciò significa che la scuola non è un posto comodo nemmeno per gli adulti omosessuali e allora la cosa fondamentale per cambiare questa società è innanzitutto cambiare noi stessi perché il modo in cui noi ci comportiamo anche in maniera inconsapevole attraverso i sorrisi le battute e gli sguardi è una cosa che viene che viene recepita dai giovani a mani in cuore devo salutare i nostri i nostri ospiti e devo ti ringrazio moltissimo e mi piacerebbe che tornassi anche prossimamente a parlarci di altri aspetti di questa questione avrei un paio di domande da fatti ma eventualmente le spostiamo in un'altra sede e poi volevo fare un paio di annunci innanzitutto tra poco c'è il documentario c'è la proiezione del documentario L'oro di Napoli nello spazio cinema con il regista in sala e poi volevo anche invitarvi al prossimo incontro dedicato alle questioni di genere che sarà questo giovedì 30 giugno alle 8 e mezza il titolo è la maternità che vorrebbero in cui si parlerà non solo di aborto ma anche di maternità e di violenza ostetrica e le ospiti saranno Benedetta Pintus Beatrice D'Avela di Pasionaria e Elena Scocco e ringrazio ancora Giuseppe Burgio sia per ieri che per stasera posso ringraziare a tutti di avermi invitato all'organizzazione ma soprattutto a tutti voi che siete state qua con grande pazienza perché spesso è difficile parlare in pubblico perché i feedback sono a volte terribili la palpebra la biocco invece siete stati avete mandato dei feedback assolutamente partecipi di questo vi volevo ringraziare tutti e tutti perché è stato molto bello restare con voi grazie si alla libreria trovate delle copie del libro di Giuseppe